Seduta di allenamento del giovedì, siamo in compagnia del capitano giallorosso Pierpaolo Boccanera. Pierpaolo, domenica una prova convincente, una bella vittoria dopo una settimana un po' avagliata. Domenica però è di nuovo battaglia. Sì, sì, assolutamente. Domenica ci aspetta una partita difficilissima. Pensiamo al futuro, ci stiamo allenando bene, molto bene, in ritmi alti. Cerchiamo di capire al più presto quello che ci richiede il mister e di prepararci al meglio per la partita di domenica. Da un punto di vista personale, quest'anno la difesa si sta ben comportando in questa piena parte di stagione, ma quando è stato chiamato in causa è stato sempre decisivo. Sei soddisfatto fino a questo momento? No, vabbè, mi fa piacere. Io, vabbè, è normale per un portiere meno col si prende e meglio è, diciamo che viviamo di quello. Quindi per adesso essere la difesa meno battuta il campionato ci fa piacere, però diciamo che è sempre il lavoro collettivo che paga e quindi bisogna continuare a lavorare di reparto tutta la squadra uniti e poi quando c'è la possibilità di riuscire a attaccare e fare più gol possibile, anche perché comunque siamo anche il migliore attacco. Quindi diciamo che per adesso i numeri sono dalla nostra parte. Sei qui dall'inizio del progetto, quest'anno sono arrivati tanti giovedoni esperti, quindi al di là del valore indiscusso tecnico, quello che però emerge da questa squadra è la forza di questo gruppo, che alla lunga può essere veramente l'arma in più, sei d'accordo? Ma assolutamente sì, devo dire che tanti ragazzi nuovi magari un po' li conoscevo, alcuni no, ma è stato veramente tutte sorprese, tutte cose veramente positive, tutti i ragazzi veramente positivi che sono venuti qua con la voglia di raggiungere un obiettivo, pensando sempre prima alla squadra che all'Io e quindi per adesso veramente la forza del gruppo, ma penso che si sia anche dimostrato domenica comunque nella situazione un po' che eravamo quella di settimana scorsa che la squadra ha tirato fuori il meglio. Grazie a tutti.